Il DMSU22SA è un trasmettitore di pressione progettato specificamente per l'industria alimentare e farmaceutica. Grazie alla sua esecuzione completamente in line, i liquidi in produzione non incontrano spazi morti, e il DMSU22SA è perfetto dal punto di vista igienico-sanitario funzionando come un singolo tubo. Il DMSU22SA è costituito da una camera d'aria leggermente appiattita. Quando viene sottoposto a pressione, questo tubo ha una tendenza naturale a ritornare alla forma circolare. È dotata di sensori di deformazione che misurano la sua deformazione e la convertono in una misura di pressione, grazie a un algoritmo estremamente affidabile e a una taratura perfettamente eseguita. Questo tubo è fino a 25 volte più spesso delle membrane dei sensori tradizionali che utilizzano guarnizioni a membrana. Di conseguenza, la sua longevità è eccezionale. Il DMSU22SA è un progetto a secco, che non include alcun altro fluido di riempimento del sistema. La camera intermedia è completamente vuota e viene costantemente monitorata per garantire l'integrità del dispositivo. Nell'improbabile caso di un problema, sarete immediatamente avvisati. Il DMSU22SA si aggiunge alla famiglia di soluzioni di misura in line di Vika. Per ulteriori informazioni sul DMSU22SA, non esitate a contattarci.